Una risposta deludente non adeguata alla gravità della situazione del settore agricolo in Italia e nella Unione Europea. L'emergenza non può essere gestita con il ricorso agli aiuti di Stato e con la riprogrammazione dei fondi ancora non spesi a livello nazionale per lo sviluppo rurale. Il presidente di Confagricoltura Foggia, Filippo Schiavone, commenta così l'intervento svolto dal Commissario Unione Europea all'Agricoltura nel corso della riunione della competente Commissione del Parlamento Europeo. Secondo il Commissario, il bilancio dell'Unione non dispone delle risorse finanziarie per dare seguito agli interventi richiesti dagli Stati membri, tra i quali l'Italia, per reagire alla crisi già in atto in termini di contrazione dei prezzi e instabilità dei mercati. È una visione limitata, priva di qualsiasi orizzonte strategico, dichiara il presidente di Confagricoltura Foggia, per continuare ad assicurare per la propria parte la sicurezza alimentare e l'agricoltura ha bisogno di interventi straordinari dal lato del sostegno dei redditi, della gestione dei mercati, della liquidità delle imprese. Sulla base della normativa vigente, alcune proposte sono già arrivate sul tavolo della Commissione. Di fronte ad una crisi di portata storica, conclude Filippo Schiavone, la Commissione non può trincerarsi dietro i limiti di bilancio.